Ecco l'allenatore del Pescara Pilon, buonasera mister, più arrabbiato per l'ennesima sconfitta in trasferta con una diretta concorrente o per l'ennesimo gol presso sugli sviluppi di un calcio d'angolo? No, per tutte le cose, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, loro sono partiti con più veemenza, sono stati più tosti, più aggressivi, hanno vinto tutti a livello individuale, contrasti. Siamo mancati da questo punto di vista, non bisogna negare l'evidenza, non bisogna negare che è un momento di grande difficoltà, perciò cerchiamo adesso di risettare, pensare di venire fuori mercoledì da una partita molto difficile contro il Palermo. Pinto qualche istante fa, i nostri microfoni, ha detto che i giocatori del Lecce andavano al doppio della nostra velocità. Vuol dire che correvamo male, non è un discorso fisico, non grappiamoci a queste cose, siamo stati noi che non siamo stati carattericamente giusti, abbiamo mollato sul piano nervoso, questo non deve succedere. Lei aveva detto a vigilia, ho visto la squadra bene, abbiamo lavorato bene in queste due settimane, aveva detto così anche alla vigilia della gara di Cittadella, però poi in campo la squadra non riesce a fare quello che lei si aspetta, quello che lei chiede sui ragazzi. Perché secondo lei? È una cosa da valutare, durante la settimana hanno fatto tutti bene, arrivi la domenica poi si perde questa vehemenza che metti durante l'allenamento, è da capire queste motivazioni, è da capire il perché, ma soprattutto capire cosa ci sta succedendo, perché in questo momento non stiamo giocando ai nostri livelli. Le scelte della formazione iniziale, Bruno davanti alla difesa, Brugman trequartista, Marras al fianco di Mancuso, rifarebbe a mente fredda, le chiedo queste scelte. Farei quello che ho fatto perché pensavo che fossero le cose migliori da fare per la partita che andavamo a affrontare, ma poi visto al di là delle qualità, delle scelte tattiche, è l'atteggiamento che siamo mancati, perché tu puoi fare, abbiamo cambiato nel secondo tempo, ma l'atteggiamento dell'aggressività, della determinazione non si è visto e questa è la cosa che mi dispiace di più. È un bene tornare in campo mercoledì, già mercoledì con il Palermo all'Adriatico, secondo lei? Dobbiamo rimettere a posto, lavorare, capire dove possiamo riparare, dove possiamo andare a parare, perché in questo momento dobbiamo cercare di fare risultato contro il Palermo, perché è una partita molto difficile per tutte e due le squadre.